La Sicilia è celebrata di questa branca, di questa mafia, di questa come si chiama. Speriamo che non ci sia un'altra persona. Speriamo che la forza dell'ordine, la magistratura, non dovrebbe più uscire perché come soffriamo noi i familiari, così dovrebbero soffrire loro anche in galera, senza 41 bis, senza come si chiama. Non soffrire come lo sappiamo, sofferto noi. Speriamo che nei documenti che hanno soffriato a lui, ci siano tanti altri macagni che si possono scoprire. Ma lei l'ha visto già da l'azzo, quindi domani lei fa gli anni, mia moglie, e oggi la vigilia hanno catturato nel seno denaro. Diceva quando vuoi a Tuneo, quando vuoi. Realmente hanno catturato la vigilia e il compleanno di mia moglie. Grazie.